... Ore ed ore di preparazione, tanta emozione ed una certezza. Integrazione significa lavoro e mescolanza di culture, pur nelle proprie peculiarità. E lo scopo ed anche stato l'obiettivo principale di Black & White, il concerto di Natale è fortemente voluto nell'ambito del laboratorio musicale stabile Maldafrica, a cura della confraternita misericordia di André in collaborazione con l'associazione New Asincrono. Protagonisti gli ospiti dei centri di accoglienza straordinari Buona Speranza e Caribù, ma anche tanti artisti giovani e meno giovani della terra pugliese, un mix tra canzoni di Natale tipiche africane, tra nene e musiche tramandate di generazione in generazione, ed anche canzoni tipiche della tradizione occidentale, in un crescendo di suoni che ha emozionato, e fatto batter mani e cuori ai tanti presenti all'interno dell'auditorio Umbaglioni di Andrea. Il significato di integrazione, perché loro con questo progetto hanno potuto conoscere altre persone e uscire fuori da quello che è il centro di accoglienza, e inoltre mettere insieme le tradizioni africane con quelle nostre, proprio perché così viviamo tutti insieme. Un lavoro lungo con la direzione artistica di Saverio Zagaria e che ha strappato applausi e consensi per un progetto nato spontaneamente all'interno del CAS e che continua a girare sull'intero territorio per promuovere pace e l'integrazione, una opportunità più unica che rara, che viene completata grazie ai diversi laboratori messi in campo per formare i diversi ospiti della misericordia. Le attività procedono bene, continuiamo a fare le cose che ci siamo prefissi di fare, i vari progetti, ultimamente c'è stato un progetto anche di lavoratorio artigianale che ha prodotto dei bei manufatti, sempre fatti dai ragazzi. Ci sarà la Marcia della Pace, una cosa organizzata dalla Diocesi, ma che ci vede coinvolti perché partirà dalla nostra sede. E niente, continuiamo così a cercare di inventarci cose nuove.